Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Punire gli ingiusti. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale youtube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Molte persone agiscono liberamente contro gli altri, agendo attraverso la furbizia con malignità e ne combinano di tutti i colori. Molti credono di gestire quindi le coscienze altrui arbitrariamente e di deridere la gente. Questa gente va appresa e fatta appunto capire l'educazione, il rispetto, l'attenzione, la cordialità, il senso di unione per fare in modo che non si commettono più questi errori. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Punire gli ingiusti. Molte persone agiscono liberamente contro i fratelli, ne combinano tante e agiscono con furbizia e malignamente combinandone di cotte di crude. Molti credono di gestire le coscienze altrui arbitrariamente e di poter scegliere e deridere le sorti comuni della gente. Bisogna punire gli ingiusti, far loro capire il rispetto che non osservano verso i fratelli e tante cattiverie commettono. Bisogna punire gli ingiusti, far loro capire il giusto impegno da conseguire verso i fratelli che sono uguali e meritano riguardo. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.